buongiorno ragazzi non tutti lo sanno ma abbiamo iniziato a lavorare anche in italia e oggi ci troviamo a roma in una zona molto conosciuta residenziale e a ridosso dei musei vaticani ci troviamo a prati e ora andiamo a vedere questo appartamento ed eccoci finalmente all'interno di questo appartamento abbiamo un'amplia zona di entrata questo corridoio molto utile con questi armadi appena entrati vediamo questa bella camera da letto molto spaziosa e vi faccio vedere questa entrata ad arco c'è una porta a scomparsa e la seconda porta che troviamo è il bagno il bagno con questo box doccia chiaramente bagno finestrato qui troviamo la lavatrice e andiamo a vedere la seconda camera seconda camera leggermente più piccola chiaramente sempre finestrata molto importante per fare affitti vacanze è questo grande spaziosissimo magazzino perché perché chiaramente tutte le cose della pulizia andranno qui si chiuderà la porta e il cliente non avrà più nessun fastidio è super spazioso quella porta è la sala che ora andremo a vedere ed eccoci nella zona salone con angolo cottura chiaramente immobili come bagno cucina e alcune cose rimarranno tutto il resto sarà chiaramente da negoziare bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto la casa che abbiamo visto si trova in un edificio storico perché ricordiamo che chi compra a roma non compra solamente un appartamento ma un pezzettino di storia quindi se siete interessati a visitare la casa o qualsiasi altra informazione come al solito qui sotto in descrizione lascio la nostra email recapiti telefonici e tutto e potete chiamarci per qualsiasi info se vi è piaciuto il video come al solito un bel like iscrivetevi al canale al prossimo video ciao ciao